Danni quantificabili tra i 500 e un milione di euro. È questa la cifra che 50 commercianti di Corso San Giorgio richiederanno presso al Comune di Teramo, come il risarcimento per mancati introiti, mancati ricavi e disaffezione della clientela. Gli esercenti teramani puntano il dito contro gli ingiustificati ritardi dei lavori di rifacimento del Corso Nuovo, che sono rimasti bloccati per più di 5 mesi a causa di un ritrovamento archeologico rimosso la scorsa settimana in una sola giornata. Antonio Tupitti, portavoce dei commercianti di Corso San Giorgio, annuncia di aver dato mandato all'avvocato Gianni Fragassi al fine di stabilire con precisione scientifica il danno subito da ognuna delle attività commerciali da febbraio ad oggi e di chiedere il conseguente ristoro all'amministrazione comunale, ente appaltante dell'intero progetto. Intanto i lavori, fermi da 5 mesi, sono ripresi spediti dopo che la soprintendenza regionale ha dato il suo nulla osta a rimuovere porzioni di un antico acquedotto romano affiorato nel momento dello scavo davanti alla banca Tercas. Secondo il nuovo cronoprogramma del Comune, il massetto fino a Piazza Garibaldi dovrebbe essere completato entro la fine di novembre ed anche le transenne dovrebbero sparire per permettere lo shopping natalizio. Mancherebbe poi la pavimentazione, sbagliata di colore in un primo momento. Quella giusta è in arrivo dalla Cina, che si spera si avvicina. Grazie.